Questo libro, Cronaca di Gerusalemme, è stato scritto da un disegnatore di fumetti canadese di nome Guy Deleese nel 2011. Parla di quando lui ha vissuto per un anno a Gerusalemme perché sua moglie lavora per Merici Senza Frontiere. Abbiamo scelto di leggere questo libro perché è scritto in modo simpatico e il protagonista è curioso. Beita Nina, casa di Anina. Esco alla scoperta del quartiere con Alice. Marciabiedi inesistenti, strade sconnesse, auto parcheggiate dappertutto e calda sfissiante. Che strano, ho l'impressione di aver già visto tutto questo da qualche parte. Ma dove? Gerusalemme me la immaginavo molto più moderna. Questo non ha niente a che fare con le foto che ho visto nelle guide. Ma siamo comunque in Israele, giusto? Beh sì, insomma dipende. Per il governo israeliano siamo in Israele, questo è certo, ma per il comunità internazionale, che non riconosce la spartizione fatta nel 67, ci troviamo in Cisgiordania, quella che dovrebbe diventare la Palestina, semmai accadrà. Mi fermo nella zona vecchia di Gerusalemme e sta a mangiare una delle grandi specialità del Medio Oriente. Buongiorno giovanotto. Salam alaikum. E lei cos'è che fa da queste parti? Ah, al momento mi occupo dei bambini, la mia compagna lavora per medici senza frontiere. Ci sono sempre delle frontiere. L'ACHA è uno dei numerosi organismi dell'ONU presenti a Gerusalemme. Non so esattamente in cosa consista il suo mandato, ma compare spessissimo sulle mappe della regione. Le loro mappe del territorio sono presenti in qualunque ufficio che abbia anche minimamente a che fare con i palestinesi. 70 checkpoint su un territorio così piccolo e più di 600 accessi bloccati. Gli uffici dell'ACHA sono situati sulla linea verde. Questa famosa linea verde è stata tracciata alla fine della prima guerra arabo-israeliana, nel 1948, dai generali delle due fazioni avversarie, per dividere il territorio tra il nuovissimo Stato israeliano e quella che sarebbe dovuta diventare la Palestina. Ancora oggi è di questa linea di spartizione che si discute negli accordi di pace, o almeno essa rappresenta la base di eventuali negoziazioni. GASA A un tratto uno dei tizi della sicurezza comincia a gridarci Corriamo a nasconderci dietro una pensilina, per non beccarci una pallottola vagante. Tengono sotto tiro una donna che aspettava di passare. È costretta a spogliarsi e a togliere il velo. Falso allarme, non aveva bombe addosso. Credo che si siano scusati. Siamo tornati all'ingresso. È da anni che non ci sono kamikaze, ma alcuni degli ultimi attentati sono stati commessi da donne. Erez Stamattina Nadej parte per Gaza. Per curiosità la accompagna fino a Erez, l'unico valico sul lato israeliano. Mi piacerebbe molto fare un giro con lei dall'altra parte, ma le autorizzazioni vengono concesse col contagocce. Sembra un aeroporto. È strano pensare che appena oltre questo confine abitano un milione e mezzo di persone che non possono uscire. Deve essere un caso unico al mondo, credo. Tutto questo perché hanno votato per i tizi sbagliati. Sbagliati. Prima del 2007 si entrava e si usciva facilmente. E da quando sono in trappola non hanno pensato a niente di meglio che lanciare misri alla cieca. Ora è un anno che c'è il cessato e il fuoco e si sono un po' calmati. C'è stato un periodo in cui ne lanciavano più di un centinaio al mese. Tipo l'ultima volta un razzo qua a Sam è caduto proprio lì di fronte. BAMO! Non avevo ancora mai visto la barriera di separazione. Non credevo fosse così alta. Ai piedi del muro. Da un po' di tempo mi sono messa a fare una serie di disegni del muro. Ho cominciato un po' così, dicendomi che l'avrei fatto uno o due per ricordo. Alla fine me ne sono appassionato. Graficamente lo trovo ricchissimo. La colonia di fronte E se ne approfittassi per fare un salto alla colonia qui di fronte, magari c'è un parchetto per i bambini. Almeno cambia un po' aria. A piedi sono dieci minuti per passare dal quartiere arabo alla colonia ebraica. Basta attraversare la superstrada. Prima di venire qui avevo tutta un'altra idea delle colonie. Mi immaginavo una collina con due o tre baracche e un cane. Pisgaz Zehev conta 50.000 abitanti. Molti di loro sono di origine russa o etiope. Vengono qui molto semplicemente perché è un buon mercato. In tanti resterebbero sorpresi se scoprissero di abitare in territori palestinesi e di contravvenire al diritto internazionale, pur essendo in regola con la legge israeliana. In Cis Giordania esistono più tipi di zone. Le A, le B, le C. Le zone C sono interamente controllate dall'esercito israeliano. Le zone B solo parzialmente. Restano fuori le zone A, meno del 10% del territorio, controllate dai palestinesi. Non mi pare molto. Ma questo sono in teoria perché praticamente ogni notte l'esercito israeliano entrerà malà, quindi in zona A, per perquisire case, arrestare persone e interrogarle. E non chiude gli occhi. Ebron, il capo di Medici Senza Frontiere Spagna, che conosce il mio lavoro, mi ha proposto di fare un reportage a fumetti per loro. L'idea sarebbe quella di raccontare, a modo mio, ciò che fanno Ebron, la città della Cis Giordania in cui i coloni sono famosi per essere particolarmente violenti. Ebron è una grande città, 130.000 abitanti. Tra tutti questi palestinesi vive un pugno di coloni, circa 400, protetti dal numero impressionante militari. Si dice che a Ebron ci sia un soldato per ogni colono. Ebron è divisa in due parti, Ebron 1 e Ebron 2. Ebron 1 è controllata dai palestinesi. Ebron 2 è controllata l'esercito israeliano a difesa dei coloni, che abitano alcune case non lontane dalle tombe dei patriarchi. Il capo missioni di Medici Senza Frontiere ci raggiunge nella città vecchia. È praticamente vuota. Invece prima pubblicava di gente, come a Gerusalemme. A di sopra delle nostre teste, la famosa griglia di cui avevo sentito parlare. È stata installata come protezione, a causa dell'abitudine dei coloni di lanciare oggetti sui passanti, dai loro balconi. Ora da lì pensano miseramente ogni cena di schifezza. Sotto le bombe L'esercito israeliano sta bombardando Gaza. È dal 1948 che non si vede niente del genere. Stamattina sono partiti all'assalto più di 80 aerei. 29 dicembre Si continua a bombardare Gaza. Ci sono già 367 morti, ma con la vita quotidiana che ricontinua come se non stesse accadendo nulla di anormale, la tensione diminuisce e la paura scompare più in fretta di quanto ci si potrebbe immaginare. È insieme, terribile e indecente. 31 dicembre 3, 2, 1, buon anno! 7 gennaio Più di 40 attacchi aerei su Gaza durante la notte. Una scuola ONU bombardata e oltre mille vittime. Piovono proteste da tutto il mondo. Si parla di reazione sproporzionata. Nemmeno in Israele i giornalisti risparmiano le critiche. 8 gennaio Stamattina sono partiti alcuni missili da Libano. La paura è che il conflitto si estenda ai paesi vicini per vade gli animi. L'ONU minaccia di ritirarsi da Gaza. Hanno sparato a uno dei loro autisti dopo che l'esercito aveva dato il lascia passare per lo sgombero. I cari d'assalto sono entrati nelle zone abitate. Si stimano più di 5.000 feriti nei primi 22 giorni del conflitto. Qualche giorno dopo i carri armati si ritirano da Gaza. L'operazione piombofusa è terminata. Bilancio di perdite umane. Gaza, Israele. Grazie. 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 Grazie.